Ok, allora sono le 17.30, sono entrata nella sala audizia della telegine, dove ci terrà la prova di francese per le scuole europee. Siamo seduti, siamo stati tutti identificati, siamo in attesa che vengano entrati i numeri dei quiz da ricercare sul litrone. I litroni non sono ancora stati consegnati, ma sono in testa ogni fila e hanno una copertina di colore blu.